Non so se hai visto il suo match contro Tuna No, non sono perso Sono stati veramente dei gran match E ho riuscito a fare il reset su... Banalmente ho sbagliato Volete andare Volete andare Quindi abbiamo ancora Game & Watch contro... Contro... La scorsa volta non era Ah, Elena magari era Gian Ma era sempre il suo match up Purtroppo Dio, vado ok L'ho portato il bordo E' stato brutalmente punito Oh no Eh, Elena ha un nome quello Non... Non l'hai riuscito comunque a fermare Molta... Ok Ok Tempo cosa dirà O un po'ones pentà Ok ok Vado ok Ok Da un Kart E che perché! Sembra Arctfire! Ha ha! Elkfire! Arctfire! Elkfire! Tim! Arctfire! Elwish! Arctfire! Grazie a tutti Grazie a tutti! 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 Ho il lunch! C'è in genere! Grazie a tutti! Questa è una delle grab non si perde e non si aparta del gioco, quella di graninja che è enorme e penso di più ricordo di ring light ok, oddio, ora potrebbe fare in un'attività riuscita a subire gli amkanger più deboli o l'arspire, quindi ora potrebbe fare più cazzo se non fai il suo dovere in match l'ultima adesso in poi ok, lei ce la roll 0-0-0-0 per cui vedete il dico insieme la stop non è la testa non è la testa non è la testa si, probabilmente la bot cerca di difenderlo in modo prima che a terra è un tentativo non è uscito e per pochissimo no, non lo fa, non lo fa, non lo fa string di arcfire peccato non è riuscita a mettere la fine della combo la finish un'attività si, probabilmente si stava in smash cosa? è vivo, è vivo se non ci credo è un smash lo prende con il poco di dietro lecione si può fare sempre miracoli di torno intorno si trova il campiere paura non c'era troppo al centro bello non ci credo grande metroid che clash come back oddio 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 allora io dico che ha diritto di fare causa il coppiere paura non ne ha il coppiere paura non ne ha se viene il kill screen e perdi puoi fare a causa nintendo è venuto due volte qua causa legale no non parlo niente furri detto dal furringao che ha assunto un nuovo significato grande a bajungazoo 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 è chiedi a ciccio di m chiedi a ciccio di m attenzione aiuto con cosa ci stupirà chiedi a ciccio di m che non credo era vicinissimo cioè all'inizio c'era una attenzione poi ah no forse era un arc thunder poi due volte il kill screen ed è riuscito a vincere patrol con un edgeguard vediamo quindi non aveva motivo veramente per cambiare town in city sicuramente è un po' più favorevole per le che può per le forme che possono aiutare ma no c'è sempre la speranza se non ci sono più ore fa è proprio quella ok ok dove vanno a prendere dove vanno a prendere ah si pensi ad andare per voi no finca che non si può cambiare la lingua per cambiare i persidi da rhyme davvero erribile spero che le vale sintesi come hai fatto a capire oh bella vabbè ha capito più che non è sintesi che si fai sembra vero che soffra io dico che voi le feliniste dovrebbero essere molto arrabbiate dalla rappresentazione di questa oh mio dio quella beve sono prendete la prega ogni volta questo fsmash su landing la seconda volta nel set che ho anche terzo si uscire questa interazione non lo fanno la fa invece la fa non è servito a uccidere ma ha montato parecchio detto a lot of damage oddio lo prende lo prende sia con la spada sia con la spada che con ah si prendi questo poi prendi quest'altro poi tieni fuori ah si ho anche una spada boom e lancia anche quella oddio riprova anche i fsmash stanno funzionando perchè sono fatti aiuta proprio una casinina energia ed è una presenza per avere la pazienza per affrontare anche questo smash trovi un altro personaggio che vuoi fare uno smash e un altro smash lo trovo lui e poi comunque c'è un tilt abbastanza potente paragonabile a uno smash come e quella è la cosa che sguardo probabilmente hai detto per caso snake snake ma io ho visto come si ho visto incondente si ah tu mi ti chiamo scherzi encima non credo sarebbe servito neanche credo si sapeva che fanno pochi danni e quindi il nostro ripieno oh mio dio è senza salto mi trovo di Roma che mandano un angolo spazio questa è una uguale parte del down smash però che era l'entra sulla scena è pericolosissima e poi c'è in continua invece il nostro primo parte sarebbe la mia bocca è incredibile funziona per esperienza però non ok non uccidere ho capito cos'è? ha preso il down smash ma fare il down smash non vuole dire più ma non fare più fare metroid 3-1 passa al prossimo round che facciamo? loser sono io oppure alt meglio dell'altro e voi si